Luca, basta che vi decidete, o tu e tua moglie venite a casa o io e mio marito veniamo da voi, cioè basta che ci organizziamo. Vabbè, allora, vieni a mia e mia moglie a casa vostra, dai. E mi raccomando, ora fammi scappare, che tu lo sai che Ignazio è preciso, vuole mangiare appunto, poi lo sai che io in cucina ci metto un po' di tempo perché sono una cuoca a certi livelli. Lo so che sembra beata tuo marito. E vabbè, anche tu mica ti puoi lamentare, eh? No, che ti devo dire? Ecco, i piatti di mia moglie si sciolgono in bocca. E' visto? E' buono? Sol che mi piacerebbe che imparasse a scongelarli prima. Ma quando vuoi c'è sempre un piatto per te a casa. Ci facciamo. Non ce l'ha trattoriva.